o io non so voi cosa potete dire ma io questo fruit ninja lo adoro buonasera a tutti ragazzi bentornati sul canale aliens gamers qui alexen paladin seguito gran master con il nostro buon caro samurai zin è forse l'unico flank che adoro fra tutti e che magari forse un pelettino lame di là c'è un parte abbastanza curioso con un genus utilizzato poco perché è abbastanza arduo da usarlo da come ora l'hanno nel fatto tantissimo vediamo come va che si vede allo starter ok eccoci qua al nostro buon caro iomi il nostro sempre bellissimo deck andrea con una bella cauterize perché addio abbiamo aspettate che silenzio come sempre abbiamo sia genus che croc croc in damage ragazzi con la maelstrom è un qualcosa di assurdo ma veramente assurdo io l'ho provato così a buffo ed è devastante con il deck è qualcosa di devastante ce l'ho eh tra l'altro se trovo l'occasione mi faccio un episodio del gran master con groc io spero più di uno perché se poco poco istiga potrebbe essere andiamo vieni zin vieni zin qui c'è qualcuno eccolo lì eh lo sapevo ammazzata genus eh madonna mia vacca vacca dalle spalle non è sempre vacca dalle spalle mamma mia resilience mercato 3s3 questo va giù come una fera incredibile vacca è in giocabile è serio? no, Resilience per forza Resilience per forza qui qui ci voleva un canto più spinnare bravo ok, contro non è possibile, hanno pushato malissimo Resilience è impossibile, veramente è impossibile vediamo come va la zina che l'ha già messa, se ne pare facile ma dai c'è pure la carta malcap puoi essere mungolo Bacche ragazzi, qualcosa di volutibile non c'è Sì E ragazzi è qualcosa di indecente Qua che buonamente indecente Vieni, vieni Pezzo di bastardo E ragazzi 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 E' che hai preso Rukus E ragazzi E ragazzi E ragazzi E ragazzi E' un giocabile E' un giocabile E' un giocabile E ragazzi E' un giocabile 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 E' un giocabile